Però con la stessa franchezza misurerò le parole, lo dirò con pacatezza e a bassa voce. Cari signori del PD, vi state comportando da sciacalli, vi stiate comportando da avvoltoi. Da una settimana, da una settimana, state ogni giorno, in ogni trasmissione, nei vostri comunicati, sui giornali vostri amici, state usando quei poveri morti, state scaraventando dei corpi morti. Chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, io non l'ho interrotta, abbia la pazienza di ascoltare e guardi, non conti sul fatto che io perda il filo o la calma, state scaraventando. Ma non accendi che essere passata per una sciacalla, mi dispiace, proprio no. Ha ragione, ha ragione onorevole Gribaudo. Facciamo chiudere Capezzone e poi torno da lei. Ha ragione onorevole Gribaudo, io non insinuo che voi siate sciacalli, io affermo che voi siete degli sciacalli, lo affermo e lo ripeto, avete da dieci giorni, avete da dieci giorni scaraventato dei poveri corpi morti contro i vostri avversari politici. Ieri vi siete scagliati perfino contro una festa di compleanno, questo è il livello a cui siete arrivati.